Operazione antimafia condotta dai carabinieri del comando provinciale di Bari che hanno posto sotto sequestro beni per un valore di 5 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Trani su proposta della direzione distrettuale antimafia. Sigilli ad una concessionaria di autoveicoli e ad una scuola guida di Canosa di Puglia, nella BAT. Sotto sequestro anche 18 immobili, tra cui un villino e due appartamenti nel centro residenziale di Milano e a Cerignola. Terreni, conti correnti aperti in diversi istituti di credito e alcune autovetture di grossa cilindrata. Il patrimonio è riconducibile al pregiudicato Luigi Curdi, di 58 anni, di Cerignola e Giuseppe Scardi, cinquantenne di Canosa di Puglia. I due hanno numerosi precedenti e condanne per associazione mafiosa e traffico di droga. Entrambi sono ritenuti affiliati al clan cerignolano Piarulli Ferraro. Il provvedimento è stato emesso a seguito dell'attività investigativa avviata a marzo dello scorso anno che ha permesso di accertare rispetto ai modesti redditi dichiarati un patrimonio rilevante ottenuto attraverso le attività illecite. I beni erano intestati a familiari e prestanome.